Una scuola sovradimensionata, seppur verticale, non gestita da un capo di istituto o gestita da un capo di istituto... Oggi abbiamo incontrato i dirigenti scolastici della città metropolitana del primo e del secondo grado per quanto riguarda l'offerta formativa e il dimensionamento della rete scolastica su tutto il territorio. Le competenze di città metropolitana per il primo ciclo sono quelle di raccordo dei diversi comuni e delle scuole per poter far sì che vengano dati risposte alle esigenze dei territori ma considerando anche la normativa nazionale e quindi è necessario come da delibera regionale la completa verticalizzazione dei nostri istituti del primo ciclo. Per l'offerta formativa invece che riguarda la competenza di città metropolitana è stato dato ampio dibattito su nuovi indirizzi, nuovi corsi anche in questo caso in riferimento alla delibera regionale, alla normativa vigente e al decreto 61 sul riordino dei professionali. Queste le novità principali dell'anno scolastico 2018-2019.